Quando è uscito dal bunker Michele Zagaria si è subito rivolto a Catello Maresca, il magistrato che ha coordinato la sua cattura. Quelle brutte cose io non le volevo fare, ha detto al PM. Si riferiva alle minacce, ai progetti di attentati a magistrati napoletani di cui si erano trovate conferme e armi pronte nelle scorse settimane. Una frase ancora tutta da decifrare, ma è certo che i magistrati sono nel mirino, ancora di più dopo la cattura del superlatitante dei Casalesi. Nel mirino ma senza scorta, di nuovo come è successo poche settimane fa, per risparmiare sugli straordinari, sulle spese di trasferta degli agenti che pure rischiano la vita per proteggerli. Sono due i PM che del lunedì saranno lasciati senza protezione, uno è Catello Maresca, l'altro è Vincenzo Donofrio, contro il quale il clan di Acerra aveva pronto un bazooka. Una macchina li accompagnerà a Roma per un corso obbligatorio e da quel momento saranno soli, niente scorta per una settimana. Nessuno dei due vuole rilasciare dichiarazioni, ma è certo che i loro sorrisi per l'esito di un'indagine lunga che li ha lasciati senza sonno per mesi ora si sono spenti. Si muore generalmente quando si è soli, diceva Giovanni Falcone, ora la speranza è che lo Stato faccia sentire la sua presenza dopo il clamore e gli applausi collettivi. Grazie a tutti.